Una gestione della sanità unica e centralizzata. E' questo l'obiettivo del progetto di riforma del titolo quinto della Costituzione, promosso dall'avvocato Angelo Lucarella, esperto in diritto costituzionale, e dal presidente nazionale della Lega Italiana per la lotta al tumore, Francesco Schittulli. Motivo del contendere è in particolar modo l'articolo 117, che assegna alle regioni la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute. Questo si traduce in una limitazione del potere legislativo dello Stato, che può solo determinare i principi fondamentali che le regioni dovranno poi seguire nella normazione da loro autonomamente gestita. Ecco perché, come sostengono i promotori di questo progetto di riforma, da circa 20 anni si assiste ad una sorta di regionalismo sfrenato in materia che provoca disuguaglianze e disomogeneità. In concreto cosa cambierebbe se questa riforma dovesse andare a buon fine? Cambierebbe che il governo centrale, quindi il Ministro della Salute, sarebbe l'unico responsabile del servizio sanitario che viene erogato a tutti i cittadini, a tutti gli italiani. Viceversa, in questo modo ci sono 20 regioni, ognuna delle quali legifera un programma per conto proprio, ma nello stesso tempo anche gestisce la sanità. Abbiamo assistito a 20 sistemi sanitari regionali differenziati durante i due o tre anni di Covid. Abbiamo delle disomogeneità, delle differenziazioni tra regione e regione. Questo non credo che sia giusto, perché tutti devono poter avere gli stessi servizi. Il progetto di riforma è stato presentato a Villa Monica nel corso di un convegno dal titolo Quale sanità per la provincia di Lecce. Nel corso dell'incontro, moderato da Gianfranco e delle Rose, sono state anche analizzate le principali criticità della sanità leccese, a cominciare dalle liste d'attesa troppo lunghe dalla carenza di personale. Le problematiche ospedaliere sono tante, proprio perché partiamo da una serie di disagi che stiamo vivendo, disagi enormi dovuti a carenze sia di personale, sia di strutture, sia carenze legate a turni straordinariamente pesanti, dalle aggressioni alle liste d'attesa. E allora è chiaro che parlare di una prospettiva futura per la provincia di Lecce è chiaro che è complesso, ma nonostante questo noi pensiamo che le prospettive siano positive.